Allora, vediamo le caratteristiche di uscita del transistore bipolare. In configurazione a emettitore comune, non è l'unica configurazione, è quella più comune. Che cosa vuol dire emettitore comune? Che il contatto di emettitore è a comune della maglia d'ingresso e della maglia d'uscita. Ripeto, ciascuno dei tre terminali può essere messo a comune tra la maglia d'ingresso e la maglia d'uscita. Tipicamente, mettendo l'emettitore, ci si trova una situazione più comune. Allora, questo è il transistore, si entra dalla base, si esce dal collettore e immaginiamo di collegarlo così. Quindi, una maglia d'ingresso, questa corrente, la corrente IB, la corrente nella maglia d'ingresso e poi all'uscita abbiamo un'altra resistenza e un generatore di tensione e chiamiamo IC la corrente di uscita. Quindi questa è la configurazione a emettitore comune. Quando guardiamo le caratteristiche di uscita, trattiamo il transistore come un sistema a due porte, a due correnti nelle due porte d'ingresso e d'uscita, i B e i C, e a due tensioni, a due porte d'ingresso e di uscita, che sono rispettivamente questa qua, che è la VBE, e questa tensione, che è la VCE. Quindi, nella porta d'ingresso, che è in corrispondenza della base, abbiamo tensione VBE, uscita e corrente IB, all'uscita, che prendiamo sul collettore, abbiamo tensione di uscita VCE e corrente IC. Le tensioni di base e di collettore sono riferite all'emettitore, che è il terminale a comune. Va bene? Ok, questa è la configurazione. Cosa sono le caratteristiche di uscita? Le caratteristiche indicate al plurale sono una famiglia di curve. Nel caso particolare, le caratteristiche di uscita, che cosa sono? Sono l'andamento del corrente in funzione della tensione alla porta d'uscita, quindi IC in funzione di VCE, adoperando una grandezza di ingresso come parametro e tipicamente si prende come parametro la corrente di base. Quindi qui devo tracciare IC in funzione di VCE. Come sono fatte queste curve? Beh, ci sono un po' di cose che già sappiamo. Sfruttiamo le informazioni che conosciamo. Per esempio, conosciamo che in zona attiva diretta vale IC uguale a beta F IB più beta F più 1 IC0 e questa roba qua praticamente fa beta F IB va bene che cosa vuol dire zona attiva diretta? Vuol dire VBE maggiore di 0 VBC minore di 0 e in questa zona è il quadrante diciamo la VBE vale circa Vgamma quindi circa 0,6, 0,7 con la tensione a capi di un diodo VBC può essere anche abbastanza più grande modulo ma negativa quindi tipicamente la VCE è maggiore di 0 quindi proviamo a disegnare queste caratteristiche quindi perché il collettore ha tensione più alta rispetto all'emettitore se proviamo a disegnare queste caratteristiche come vengono? vedete io dico IC uguale a beta F IB quindi se traccio le curve di IC in funzione VCE mi viene che IC è indipendente da VCE quindi è una costante ed è invece proporzionale soltanto a IB e questo è il comportamento che abbiamo detto un sacco di volte è il comportamento che è quello di un generatore di corrente controllato dal corrente quindi se per esempio per questa curva la IB vale un certo valore IB1 questa IC sarà uguale alla retta beta F per IB1 se poi tracciamo la curva in cui il valore di IB è un certo valore IB2 avremmo che IC sarà uguale a beta F IB2 quindi vedete sono curve indipendenti dalla VCE va bene ok questa è una situazione fatta tratteggiata è la situazione più o meno ideale se andiamo a disegnare cosa succede a un transistore su tutto questo piano la curva assomiglia a una cosa di questo tipo è prima ripida qua poi qua all'incirca segue la retta di prima però c'è una leggera pendenza verso l'alto poi a un certo punto per un certo valore di VCE un po' più grande abbiamo la corrente che sale quindi la curva reale è fatta all'incirca così quindi diciamo per basse VCE ci si discosta dalla situazione ideale e ci si discosta anche per altre VCE c'è invece un intervallo intermedio in cui più o meno l'andamento IC uguale a beta FB è rispettato allora questa zona qui è effettivamente quella che si chiama zona attiva diretta quindi l'unica differenza che c'è in zona attiva diretta rispetto all'espressione che abbiamo scritto è che mentre nell'espressione che abbiamo scritto ai B costante le IC dovrebbero essere costanti nella pratica c'è questo leggero aumento e va diciamo verificato insieme poi vedremo tra un attimo di che si tratta allora vediamo che cosa succede fuori da questa zona cerchiamo di capire che cosa sta succedendo per tensioni più alte a un certo punto improvvisamente la corrente sale molto ripidamente cosa sta succedendo qua qui semplicemente sta succedendo che la VCE guardate bene è uguale a meno VBC meno VCE meno VBE per definizione VBE è VB meno VE VBC è VB meno VC se fate meno VBC meno VBE vi viene VCE siccome il transistore è qua in zona attiva diretta la VBE all'incirca è costante è pari a Vγ e quindi quando aumento la VCE aumenta in modulo VBC VBC rimane con segno negativo aumenta in modulo e quindi aumenta VCE la VBC che cos'è? è la tensione inversa alla giunzione base collettore quindi quando mi sposto verso destra verso VCE crescenti quello che succede è che aumenta la caduta di tensione tra base e collettore è una giunzione polarizzata inversamente e a un certo punto come tutte le giunzioni PN polarizzate inversamente va in breakdown e quindi quando va in breakdown la corrente sale molto rapidamente quindi questo comportamento è dovuto al breakdown questa freccia non si vede se la faccio qua questo comportamento è dovuto al breakdown della giunzione base collettore fatemelo sottolineare un po' ok per valori invece più bassi di tensione c'è quest'altra zona che sta succedendo? guardate sempre questa espressione aspettate questa si legge male magari c'è il rischio che prendiate male l'appunto aspettate fatemela un attimo correggere questo è VBE c'è scritto qui VBC meno VBE quindi di nuovo quando VBC diventa piccolo che cosa sta succedendo? VBE vale VBE vale la solita V gamma quindi circa 0,7 quindi qui ho un meno 0,7 no ho scritto male il segno è sbagliato questo è più meno VB si ok torna no guardate lo rischio per bene VBC è uguale a meno VB più VC più VB meno WE e quindi viene VC meno WE ok esattamente VCE come per definizione quindi c'è più quindi VBE è 0,7 volte va bene quando VCE è piccolo magari più piccolo di 0,7 volte che cosa vuol dire? vuol dire che questa VBC non è non è negativa ma diventa positiva se VBC diventa positiva a quel punto VCE può essere più piccolo di VBE se VBC è positiva vuol dire che l'aggiunzione base collettore non è più polarizzata in inversa ma comincia a essere polarizzata direttamente ricordate cosa succede quando la VBE è polarizzata direttamente anche la VBC quando VBE è positiva e anche VBC è positiva siamo in regione di saturazione non siamo in zona attiva diretta infatti questa è la regione in cui siamo qua in regione di saturazione il transistore si comporta come un cortocircuito quindi a basse VCE la corrente può variare molto può essere anche molto alta e questo è il comportamento vedete in pratica IC va su linearmente come VCE si comporta come una resistenza tipicamente come una resistenza abbastanza piccola d'accordo quindi giustamente non è più il comportamento da zona attiva diretta e non è più questo il comportamento da generatore di corrente controllato in corrente allora quindi ricapitolando in zona attiva diretta il transistore si comporta come il generatore di corrente controllato in corrente se disegniamo le caratteristiche di uscita in zona attiva diretta le caratteristiche di uscita sono all'incirca delle rette orizzontali cioè la corrente IC è dipendente soltanto dai B e non da VCE chiaro in prima approssimazione cosa succede fuori da questa zona per tensioni più alte per tensioni VCE più alte abbiamo la rottura della giunzione base collettore e quindi la corrente aumenta rapidamente per valori più bassi di VCE quindi VCE è vicino allo zero abbiamo invece che anche l'aggiunzione base collettore viene polarizzata direttamente e quindi il transistore è in saturazione e in saturazione si comporta come un interruttore chiuso cioè come una resistenza di basso valore per cui abbiamo una IC in funzione di VCE che è lineare e abbastanza ripida quindi la conduttanza è la pendenza della curva di C in funzione di VCE se la resistenza è bassa la conduttanza è alta d'accordo allora approssimativamente questa tensione qua alla quale cambia il comportamento alle quali qui abbiamo questa variazione da una curva quasi orizzontale a una pendenza molto più alta si chiama VCE SAT è il valore al quale si può separare il comportamento tra zona attiva diretta e condizioni di saturazione ed è una cosa circa uguale a 0,3 volt quando la VCE è minore 0,3 volt vuol dire che in pratica anche l'aggiunzione base collettore è ben polarizzata direttamente e quindi la corrente fluisce senza problemi è importante tenerlo presente perché è una quantità che viene indicata anche nei dati di targa dei dispositivi come viene indicata nei dati di targa dei dispositivi questa tensione a cui si ha la rottura che si chiama VBD tensione di breakdown tutte e due queste quantità vengono indicate la VBD cambia molto da transistore a transistore può essere da qualche volt per i transistori piccoli per i transistori di potenza può andare anche a 300-400 volt dipende un po' dal caso ok è importante tenere presente le caratteristiche di uscita perché come abbiamo visto per il giratore di corrente controllato in corrente per calcolare il punto di riposo del transistore bisogna usare le caratteristiche di uscita insieme alla letta di carico questo l'abbiamo visto per i diodi l'abbiamo visto per il giratore di corrente chiaramente vale un po' per tutti i dispositivi ok allora adesso guardiamo un effetto del secondo ordine che è però abbastanza rilevante è questa pendenza che in realtà c'è in zona attiva diretta quindi avevo detto idealmente se guardiamo questa equazione dovrebbe essere una cosa costante guardando meglio la pendenza è un pochino positiva perché che cosa sta succedendo allora l'effetto più il modo più semplice di spiegarlo è questo se guardate l'espressione IC uguale a beta F e B per quale motivo se B rimane costante IC aumenta quando aumenta VCE si vede bene IC aumenta perché quando aumenta VCE beta F un pochino aumenta quindi quindi beta F aumenta leggermente all'aumentare di VCE e quindi la corrente aumenta anche se IB è costante quindi questo vuol dire che quel parametro non è assolutamente costante ma dipende un po' dal punto di riposo vediamo dal punto di vista fisico che sta succedendo e perché aumenta e c'è un effetto il nome ha il meccanismo fisico attraverso cui aumenta il beta F si chiama effetto Early l'effetto Early fu come dire notato e spiegato da Early che lavorava anche lui a Bell Labs più o meno proprio negli anni dell'invenzione del transistore un effetto che si spiega abbastanza facilmente in questo modo vediamo il grafico dell'energia potenziale per gli elettroni in zona attiva diretta immaginiamo qua abbiamo l'emettitore la base e collettore questa è la barretta di semiconduttore N P e N la barriera tra base e emettitore è bassa quella tra base e collettore è alta la differenza di potenziale che c'è dall'emettitore al collettore all'incirca è la VCE quindi la VCE è questa distanza qua differenza di tensione che c'è tra il collettore e l'emettitore per essere precisi questa è l'energia potenziale per gli elettroni quindi questa è QVCE e si vede bene il segno se VCE è positiva vuol dire che il potenziale del collettore è QVCE più basso dell'energia potenziale sull'emettitore allora se aumento la VCE che cosa succede? succede che faccio un colore leggermente diverso il potenziale l'energia potenziale sul collettore scende questo se aumento VCE immaginate VBE di lasciarla costante quindi qui la barriera non è stata toccata il salto tra base e collettore è più grande se aumenta la differenza di potenziale vuol dire che si è allargata la differenza di svuotamento quindi l'aggiunzione base collettore si è allargata la zona di svuotamento e fa all'incirca così se si allarga la zona di svuotamento il primo effetto è che la base in pratica si è ristretta vedete prima arrivava fin qui a questo punto si è allargata la zona di svuotamento anche nella base la parte neutra della base si è ristretta e quindi gli elettroni che partono dall'emettitore attraversano la base e finiscono nel collettore hanno meno spazio per ricombinare e prima potevano ricombinare fin qui adesso o ricombinano in questa zona più piccola e stretta oppure vengono subito tirati verso il collettore per questo motivo ne ricombinano di meno e quindi la porzione di corrente che arriva al collettore è più grande che nel caso precedente e quindi il valore di alfa F è più grande più vicino a 1 e di conseguenza è più alto beta F va bene quindi ricapitolando dobbiamo scrivere la sequenza di nuovo qua se aumenta VCE prima conseguenza aumenta la zona di svuotamento tra B e C in seconda battuta si restringe la regione neutra della base e si riduce la ricombinazione in base e quindi aumenta alfa F di conseguenza aumenta beta F quindi questa è la causa se aumenta se aumenta VCE aumenta beta F e quindi aumenta i B aumenta i B e scusate aumenta i C a i B fissa se anche i B rimane fissa i C che è beta F per i B aumenta bene quindi questo è il motivo del della penenza verso l'alto della caratteristica fu spiegato in dettaglio per la prima volta da Herli e quindi si chiama effetto Herli dal punto di vista del modello e della descrizione analitica di questo comportamento c'è questa approssimazione che si fa di solito che è tutto sommato è abbastanza buona e quella di dire va bene se io rappresento i C in funzione VCE le caratteristiche di uscita sono fatte così posso fare questa operazione io provo a prolungare le caratteristiche di uscita nella direzione di VCE negativo e all'incirca intercettano l'asse X tutte in un punto è molto approssimato questo ragionamento questa tensione è una tensione negativa che si indica con meno VA e si chiama questa VA tensione di Erli appunto allora se io prendo questo punto immagino di ragionare con questo triangolo questo triangolo se voglio conoscere la pendenza della curva dico va bene la pendenza pendenza delle caratteristiche è la pendenza dell'ipotenusa e quindi è l'altezza del triangolo che è IC diviso il lato diviso la base quindi il lato che è VCE più VA nella pratica VCE è molto più piccolo di VA quindi diventa IC diviso VA va bene questo perché VA è molto maggiore di VCE e quindi posso approssimare la caratteristica con la pendenza IC su VA ecco un modello molto semplificato ma abbastanza buono per cui per esempio sulle schede tecniche dei transistori bipolari sui datasheet questa tensione VA è indicata esplicitamente e vi è indicata serve a fare una stima della pendenza delle caratteristiche ok va bene allora come si tratta in un circuito un transistore bipolare come abbiamo fatto per il diodo bisogna definire un modello per grande segnale e un modello per piccolo segnale vediamo quello prima per grande segnale nel transistore bipolare come nel caso del diodo in pratica quando si fa il modello per grande segnale si fa un modello lineare a tratti in modo che che poi nella soluzione di un circuito si possa sostituire il transistore quindi la caratteristica del transistore non lineare perché ci sono due diodi quindi comunque una caratteristica non lineare con un un'espressione lineare valida in una certa regione questo è il discorso della caratteristica lineare a tratti che abbiamo visto nel diodo nel caso del transistore si fa così per ogni regione di funzionamento di quelle che abbiamo visto insieme si definisce un modello per grande segnale ok quindi si linearizza tratti dove ogni tratto corrisponde a una regione di funzionamento e la cosa viene abbastanza semplice come vediamo ora insieme si tratta di un modello molto approssimato però diciamo spesso è funzionale in molti casi non si può andare non si può far tanto di meglio perché poi altrimenti non diciamo non si tiene una grande semplificazione nel linearizzare la caratteristica del bipolare quindi c'è sempre questo compromesso tra il fatto di fare una cosa accurata e il fatto di fare una cosa semplice spesso che si fa nel caso in cui si vogliono fare conti quasi a mano si semplifica molto anche a costo di perdere un po' di accuratezza e poi dopo aver fatto un primo conto diciamo grossolano si affinano i calcoli facendo un calcolo numerico con un calcolatore e stavolta con un modello accurato si bilanciano le due cose prendendo prima una cosa molto approssimata a mano e poi una cosa molto accurata al calcolatore qui vediamo prima nella zona di funzionamento principale la zona attiva diretta allora voi sapete che in zona attiva diretta l'aggiunzione base emettitore è polarizzata direttamente quindi voi sapete che vbe è maggiore di zero vbc è minore di zero considero sempre un npn e poi sapete che in questa zona ic è circa uguale a beta fb va bene quindi com'è che si schematizza modo più semplice di schematizzarlo di schematizzare il tutto è questo io dico ok mettiamo il terminale di base il terminale di emettitore e il terminale di collettore e poi diciamo questo la tensione tra base e emettitore è vbe on certo valore fissato che per esempio vale 0,7 volt questa la chiamiamo ib e poi tra collettore e emettitore non mettiamo un generatore mettiamo una corrente perché sappiamo che in zona attiva diretta questa corrente deve essere beta f per ib quindi vedete questa corrente qui è la corrente ic allora vi torna questo discorso c'è due considerazioni da fare questo circuito equivalente in realtà non risponde totalmente alle condizioni della zona attiva diretta ma ne risponde solo parzialmente ci sono altre cose che bisogna verificare separatamente che guardate vbe viene 0,7 in zona attiva diretta il requisito è maggiore di 0 quindi diciamo 0,7 può essere una buona approssimazione anche perché la tensione su un diodo non sale in modo indefinito la curva è molto la caratteristica del diodo è molto verticale in zona diretta quindi va bene mettere una tensione fissa e poi l'ultima condizione viene soddisfatta e c è beta f e b ci sono però delle altre condizioni che dobbiamo verificare a parte perché non sono garantite dal circuito quindi quando usiamo questo circuito equivalente dobbiamo verificare separatamente e quali sono sono due la seconda che vbc anzi la seconda questo vbc minore di zero questa possiamo verificarla in modo un pochino più soft perché possiamo pensare a quello che abbiamo visto sulle caratteristiche di uscita per essere vbc minore di zero è una condizione che dal punto di vista fisico garantisce che l'aggiunzione base collettore sia polarizzata inversamente nella pratica abbiamo visto nell'uscita precedente che finché vc è uguale a 0702 0203 volt possiamo considerare che la zona di funzionamento sia ancora attiva diretta quindi una condizione che non è scritta nel circuito ma che possiamo verificare separatamente che la vc sia maggiore di vc sat ok quel valore di 0203 che dipende dai casi notate questa è un pochino meno restrittiva che quella di sopra perché se vb è 07 volt e vbc deve essere minore di zero vuol dire che vc dovrebbe essere maggiore di 07 ok volt in realtà va bene anche fino a 0203 perché finché una giunzione è molto meno polarizzata dell'altra le caratteristiche di uscita si mantengono orizzontali quindi questa condizione lo ripeto non è implicita nel circuito perché vedete nel circuito tra collettore e emettitore è un generatore di corrente quel generatore di corrente impone la corrente ma non dà nessun vincolo sulla tensione tra collettore e emettitore quel vincolo lo dobbiamo verificare separatamente l'altra condizione che non viene garantita da questo circuito è che l'Ib e l'Ic siano positive di nuovo anche qua la tensione tra base e emettitore garantisce che la vb il generatore garantisce che la vb sia pare a vb on ma non mi dice niente del segno della corrente in realtà noi sappiamo che in zona attiva diretta la corrente di base deve essere positiva se guardate il modello di Ebers e Mol la corrente viene sempre positiva a quel modello ok va bene quindi cosa mi garantisce questo modello per grande segnale mi garantisce il funzionamento in questa zona di funzionamento ok vce maggiore vcsat anche ovviamente minore vbd ora non l'ho scritto ma ovviamente è importante magari per completezza la aggiungiamo quindi vce compreso tra vcsat e vbd a quel punto è c uguale a beta fb ma le b sono tutte positive ovviamente anche le c sono positive perché solo in questo quadrante vale la condizione ripeto se il circuito è lineare non è vincolato né in alto né in bas quindi i b maggiore di 0 che vuol dire anche ovviamente c maggiore di 0 perché i b è uguale a c è proporzionale a c quindi ha lo stesso segno va bene adesso c'è da vedere cosa succede in quest'altra condizione qui tra qui e qui e in questa condizione i c è dipendente linearmente da vce allora per semplificare moltissimo che cosa si fa si dice va bene facciamo così tanto vc sat è 0 l'asse verticale passa da 0 non stiamo a trattarla esattamente come una retta mettiamo questa cosa che in questa regione di saturazione vc sia vc sia uguale a vc sat sia fissato a 0 3 o a 0 2 e l'ec possa avere qualunque valore quindi se voglio rappresentarlo in un circuito per grande segnale cosa faccio proviamolo a indicare chiamiamola zona di saturazione diretta perché le c sono positive a questo punto la indichiamo in questo modo abbiamo un generatore di tensione tra base e emettitore che mi garantisce che la giunzione sia polarizzata direttamente e poi tra collettore e emettitore se vogliamo imporre la tensione ma dire che la corrente può essere qualunque chiaramente dobbiamo mettere un altro generatore di tensione quindi qui ci va un altro generatore di tensione notate molto molto approssimato non prendiamo la curva per bene a un certo punto quelle curve un po' ripide le facciamo diventare una retta verticale allora questa tensione è VCE SAT questa corrente è VBE ON o a volte spesso qua si usa una tensione un pochino più grande di prima perché diciamo se la corrente è molto alta la VBE può essere ancora un po' più alta che c'è una caduta di tensione anche sull'RB la resistenza di base di solito questa qua a volte si prende VBE ON a volte si prende VBE SAT non ci cambia molto quando si prende una VBE SAT diversa si considerano 0,8V per esempio la VCE SAT per esempio quindi 0,3V 0,2V insomma dipende dal valore che fissiamo va bene ancora una volta questo non mi impone dei vincoli nello spazio ICVCE in cui questa condizione si verifica perché è un circuito lineare appunto che vale all'infinito fino a valori infiniti sia in alto sia in basso dei due parametri quindi le condizioni di validità i vincoli dobbiamo deciderli a parte ah qui avevo detto avrei messo anche VCE minore di VBD ok questo indichiamolo e qui l'altra condizione i vincoli che ci sono per la validità di questo modello sono due eh indichiamo come vincoli solo quelli che non sono già impliciti nel circuito in pratica il vincolo è che IC sia maggiore di zero e anche IB sia maggiore di zero perché la corrente il segno della corrente non è fissato dai due generatori e poi c'è anche un'altra condizione che in realtà va verificata che è più importante di quello che sembra ve lo spiego tra un attimo prima ve la scrivo IC deve essere anche minore di beta F IB questa è una condizione che mi garantisce il comportamento da eh in comportamento di saturazione cosa vuol dire IC minore di beta F B si capisce bene se vado su queste caratteristiche se vado qua vedete bene che beta F e B è questa curva per esempio per IB uguale B3 IC minore di beta F e B vuol dire che sto sotto questa curva e questa cosa deve essere senza altro vera in saturazione perché le curve si abbassano rispetto alla caratteristica orizzontale va bene e anche quel vincolo deve essere soddisfatto non possono essere completamente indipendenti le B e le C perché la IC deve essere più piccola di beta F e B ok lo dico un'altra volta una cosa perché mi servono questi vincoli perché noi prima facciamo un'ipotesi di essere in una certa zona di funzionamento poi sostituiamo alla zona di funzionamento il circuito equivalente però quando noi facciamo l'ipotesi sul fatto di essere in una zona di funzionamento non abbiamo ancora risolto il circuito non sappiamo qual è la corrente e la tensione quindi non sappiamo in che zona siamo ne facciamo un'ipotesi risolviamo il circuito con quell'ipotesi e poi dobbiamo andare a verificare che effettivamente siamo le soluzioni trovate sono nella zona di funzionamento per cui abbiamo fatto l'ipotesi come facciamo a fare la verifica appunto facciamo la verifica verificando i vincoli che abbiamo sulla regione e sono quelle condizioni che vi ho scritto accanto quindi quelle condizioni ci servono per poi verificare che l'ipotesi di zona di funzionamento sia effettivamente soddisfatta allora siccome il collettore e il emettitore possono essere scambiati di posto e invece la zona attiva diretta possiamo essere in zona attiva inversa dobbiamo avere dei modelli di grande segnale anche in zona attiva inversa quindi non sto a fare il disegno completo però la zona attiva diretta è il primo quadrante delle caratteristiche ICVCE se scambiate di posto collettore e emettitore finite nel terzo quadrante cioè VCE scambiando di posto collettore e emettitore viene VCE negativa scambiando di posto collettore e emettitore viene C positivo e quindi viene IE negativa scusate IE viene positiva e quindi viene C negativa quindi siamo nel terzo quadrante delle caratteristiche come si fa a scrivere in che condizioni siamo beh fasce basta guardare questo circuito e poi scambiare di posto collettore e emettitore quindi che cosa viene fuori qua davanti abbiamo la zona attiva inversa zona attiva inversa quindi vediamo come è fatto il circuito se questa è la base questo è l'emettitore e questo è il collettore prima avevamo tra base e emettitore una batteria adesso abbiamo la batteria tra base e collettore questa chiamiamo la VBCON che sarà uguale alla VBEON quindi sono in solito 0,7 volt poi avevamo tra emettitore e collettore un generatore di corrente quindi ce l'abbiamo anche in questo caso però in direzione opposta quindi questa è la IB e qui avremo che la IE è uguale a beta R IB quindi questo è il circuito equivalente in zona attiva inversa l'espressione è IE è uguale a beta R IB VBC sarà maggiore di 0 VBE sarà minore di 0 quindi queste sono le condizioni che conosciamo le condizioni da verificare quali sono chiaramente dobbiamo verificare le condizioni che non sono già implicite nel circuito IE uguale a beta R IB non è da verificare perché è garantita dal circuito VBC maggiore di 0 pure dobbiamo verificare che la VBE sia negativa e questa la verifichiamo dicendo che VEC sia maggiore di VEC di saturazione che vale 0,2 0,3 volt e poi dobbiamo verificare che la IB e quindi anche la IE siano di segno positivo vuol dire essere nel terzo quadrante delle caratteristiche analogamente c'è una zona di saturazione inversa anzi qui ho scritto di nuovo 1 questo è un 3 poi la zona di saturazione inversa è la zona numero 4 è un 3 anche qui non l'ho scritto per completezza anche qua dobbiamo mettere anche WEC WEC minore della tensione breakdown ok maggiore di WEC SAT e minore della tensione breakdown in zona di saturazione inversa come per la zona di saturazione diretta dobbiamo imporre una tensione tra emettitore e collettore molto piccola abbiamo WBC tra base e collettore e abbiamo e abbiamo una WEC di saturazione tra emettitore e collettore quei soliti 0,2,0,3 volt queste sono le cose circuitali chiaramente bisogna a parte imporre che i E e i B siano entrambe positive perché altrimenti non lo garantisce nessuno e che i E di nuovo sia minore di beta R per i B altrimenti non siamo in saturazione quindi abbiamo visto le zone di funzionamento sono 4 per ora perché la zona di saturazione è sdoppiata è una zona positiva e una zona negativa e poi per finire abbiamo un'altra zona di funzionamento che è la zona di interdizione che è facile da verificare dunque queste sono le condizioni insomma in interdizione è facile da verificare perché qui abbiamo praticamente un circuito aperto tra base, collettore e emettitore non passa corrente quindi le condizioni che le correnti non passano sono tutte nulle e sono garantite dal fatto di avere un circuito aperto il B uguale a C uguale a E uguale a 0 il circuito equivalente è un circuito aperto ogni nodo è isolato internamente poi magari è collegato a un circuito esterno ma internamente è isolato la cosa che non consente questo modello equivalente questo circuito equivalente di verificare sono le tensioni e quindi dobbiamo verificare separatamente che come abbiamo già visto in interdizione tutte e due le giunzioni siano polarizzate inversamente cioè sia VB è minore di 0 e anche VBC minore di 0 questo va verificato a parte va bene? quindi abbiamo visto le zone di funzionamento abbiamo detto hanno 4 zone di funzionamento quando abbiamo visto insieme ora in questo caso meno distinte 5 perché distinto una zona di saturazione diretta da una zona di saturazione inversa perché comunque in saturazione le correnti passano liberamente tra mettitore e collettore però può dominare una o dominare l'altra cambiano i segni bene nel circuito equivalente di differenziare detto questo com'è che si procede nella soluzione circuitale? ricordate il discorso che abbiamo fatto con i Diodi esattamente uguale io ho un circuito voglio calcolare la situazione quindi il punto di riposo quindi valore di corrente e tensione in tutti i nodi del circuito se non voglio fare il calcolo non lineare sostituendo le caratteristiche dei Diodi del modello di Abersemol per esempio facendo tutti i conti che cosa faccio? faccio un'ipotesi sulla regione di funzionamento fatta l'ipotesi sostituisco il circuito equivalente linearizzato a questo punto ho un circuito equivalente complessivamente lineare lo risolvo con gli strumenti dell'elettrotecnica dell'analisi dei circuiti lineari che conoscete trovo tutte le correnti e tutte le tensioni vado a verificare che effettivamente il transistore sia nella zona di funzionamento che ho ipotizzato all'inizio se è vero ho risolto il circuito con una prima approssimazione molto semplificata d'accordo? come vi ho detto per i Diodi qui il discorso è che la cosa relativamente facile se abbiamo un solo transistore se abbiamo tanti transistori le combinazioni possono essere molto numerose e quindi bisognerebbe cercare più o meno la prima di cercare altrimenti poi il metodo diventa talmente diciamo complicato dal punto di vista proprio della molla di conti da fare che non conviene fare la semplificazione conviene andare sul calcolatore disegnare il circuito farlo risolvere a lui e poi alla fine vedere in che zona di funzionamento siamo ok quindi va bene come metodo per esplorare un circuito che più o meno conosciamo per cui siamo in grado velocemente di capire in che situazione di funzionamento siamo vedete è una cosa particolarmente interessante quando c'è da inventarsi un circuito da progettarlo da dimensionarlo perché uno in quel caso capisce bene dove vuole andare a parare è in grado di scegliere i parametri del circuito che vuole realizzare facciamo un esempio facciamo un esempio super semplice un circuitino con un transistore una resistenza e due resistenze quindi questa è la base questo è il collettore questo qua è l'emettitore ho forse introdotto qui una simbologia che non conoscete se scrivo qua WC vuol dire che questo nodo è a tensione WC rispetto al nodo di riferimento il nodo di riferimento in un circuito si chiama tipicamente massa la massa non è altro che il nodo rispetto a cui tutte le tensioni sono calcolate e riferite quindi quando dico che questo è a tensione WC rispetto a massa vuol dire che sto sottintendendo la presenza di un generatore lo faccio lo faccio tratteggiato di un generatore di valore WCC da quel punto al nodo che chiamiamo massa ok vuol dire che questo è sottinteso è una notazione che serve semplicemente a come dire rendere un pochino più snello il disegno del circuito quindi vedete la prima volta la evidenzio poi non ve la faccio più la sottintendo anch'io allora ecco la cosa che vi voglio far notare con questo esempio è che la regione di funzionamento di un circuito dipende molto dalle quantità dai valori che hanno RB, RC e parametri del transistore non basta dare un'occhiata per capire in che regione di funzionamento siamo bisogna guardare anche un po' i numeri allora immaginiamo di essere in questa situazione RB sia 100 eh no RB 200 300 kg prendo lo stesso numero RC immaginiamo che sia 2 kg e WCC sia 10 volt questo è un transistore e il transistore per ora ci serve solo un parametro che è il valore di beta F e poniamo che sia 100 valore ragionevole per un transistore NPN va bene allora come si procede abbiamo detto già come si procede primo punto bisogna fare l'ipotesi sulla regione di funzionamento ripeto una cosa che magari io com'è che potrei procedere se non usassi il modello per i grandi segnali prendo quel circuito al posto del transistore sostituisco il modello di Ebers Moll che mi dà un diodo un altro diodo due generatori controllati da qualche parte ho i 4 parametri del modello di Ebers Moll quindi conosco quei 4 valori e ho un circuito elettrico non lineare anche se il circuito è elettrico e non lineare io posso scrivere l'equazione nodi per esempio o alle maglie è indifferente se scrivo l'equazione nodi mi viene un sistema non lineare perché ci sono le caratteristiche del diodo con quegli esponenziali quelli non è che spariscono a quel punto un sistema non lineare da risolvere non ho nella pratica diciamo matematicamente non ho garanzia di unicità e di esistenza nella soluzione fisicamente garanzia di esistenza ce l'ho perché ripeto una volta che lo monto in qualche modo va a finire e risolvo con tecniche numeriche il sistema non lineare tipicamente non riesco a farlo analiticamente ho bisogno di risolverlo numericamente e trovo tutti i valori di corrente e di tensione un calcolatore fa così i programmi di progettazione al calcolatore fanno esattamente così l'unica differenza rispetto a quello che vi ho detto è che in realtà non usano il modello di Ebers & Mol come ve l'ho raccontato con quattro parametri ne usano una versione un pochino più raffinata che ha una trentina di parametri in modo che riesca a riprendere perfettamente le caratteristiche come dire misurate dei transistori però è questo il concetto tutto qui poi in quel caso lì uno che cosa fa se vuole si ottiene dei valori e lui vorrebbe dei valori o lei vorrebbe un valore diverso di corrente per esempio che cosa deve fare prende il circuito cambia un resistenza con un po' d'occhio se ce l'ha cambia la resistenza rimanda alla simulazione e vede se il valore della resistenza cambiato gli ha permesso di portare il valore della corrente per esempio di collettore più vicino al valore che voleva d'accordo questa è una cosa che si fa e si fa comunemente è chiaro che specialmente dal punto di vista idattico non è il massimo e anche dal punto di vista della progettazione veloce non è il massimo perché una cosa è cambiare un po' le cose per vedere se torna un'altra cosa è avere un'idea precisa di che valore bisogna dare a una resistenza per far venire una certa corrente va bene? per questo motivo ci conviene avere un modellino un pochino più approssimato che però ci dà delle espressioni analitiche per cui abbiamo delle relazioni anche se approssimate sappiamo da come dipende la corrente dalla resistenza e se vogliamo raddoppiare la corrente come dobbiamo cambiare la resistenza all'incirca lo sappiamo poi la verifica e l'aggiustamento fino lo facciamo di nuovo col calcolatore ma il fatto di avere una cosa approssimata è utile per avere il senso di cosa si sta facendo ok va bene allora l'ipotesi qual è per esempio siamo in zona attiva diretta anche lì le ipotesi sono facili se pensiamo che questo circuito non è una cosa che è in natura no l'ha progettato un'altra persona e se voluto fare un amplificatore speriamo abbia messo il transistore almeno in zona attiva diretta ok allora zona attiva diretta a questo punto detto questo posso prendere e sostituire il transistore con il circuito per grande segnale in zona attiva diretta che cosa vuol dire vuol dire che tra base e emettitore mettiamo una tensione di valore VB e ON diciamo che sia 0,7 questi valori spesso sono presenti nel datasheet i valori del circuito del modello di grande segnale quindi dipende un po' da transistore ma sono presenti e poi tra collettore e emettitore mettiamo il generatore di corrente beta F e B dove B è questa corrente va bene questo è VCC una volta che abbiamo fatto questo noi possiamo risolvere il circuito per esempio possiamo trovare B seguendo questo percorso da VCC a massa viene che il B è uguale alla tensione su RB che è VCC meno VBE diviso RB quindi sostituisco mi viene 10 meno 0,7 fa 9.3 diviso RB che fa 300 per 10 alla 3 ok questo viene 31 micro amper ho trovato i B adesso posso trovare i C i C è uguale a beta F e B quindi è 100 per 31 micro amper fa 3100 micro amper cioè 3.1 milli amper ok spesso un vizio un po' da ingegneri quello di mettere unità di misura che abbiamo sempre un multiplo di mille un sottomultiplo di mille come come prefisso dell'unità di misura quindi dal micro amper scriviamo in milli amper ok fatto questo abbiamo diciamo conosciamo quasi tutto del transistore adesso abbiamo bisogno di verificare le condizioni di funzionamento allora verifica dell'ipotesi allora la prima cosa da verificare è che i C e i B siano positive e questo senz'altro è positivo è vero perché sono tutte due entranti e positive per i valori che abbiamo trovato e poi c'è bisogno di verificare la VCE che sia maggiore di VCE sat e minore della tensione di breakdown la VCE quanto vale la tensione tra collettore e emettitore è uguale a VCC meno la caduta su RC quindi abbiamo VCC meno RC per IC e questo fa 10 meno RC è 2 Kilo per IC è 3.1 milliampere 1 Kilo per 1 milliampere fa 1 volt quindi abbiamo meno 6.2 in volt il risultato finale è 3.8 volt che è maggiore di VCE sat sì e quindi ok la verifica è fatta è anche minore la tensione di breakdown diciamo che sì non ve l'ho indicata la tensione di breakdown supponiamo che sia 30 volt insomma in qualche modo condizione facile da verificare abbiamo trovato una soluzione quindi abbiamo trovato vedete sulle caratteristiche di uscita siamo stati in grado di posizionare sulle caratteristiche di uscita il punto di riposo perché ci serve la IC che è questa e poi ci serve anche la VCE che è questa quindi punto di riposo sulle caratteristiche di uscita abbiamo individuato univocamente ok facile ora diciamo quindi tutto sommato la prima abbiamo preso tenete presente in generale come vi dicevo prima che molto dipende dai valori perché con valori leggermente diversi è facile finire completamente da un'altra parte vi faccio un esempio prendiamo lo stesso circuito proprio uguale lo stesso esempio di prima quindi chiamiamolo esempio numero 2 allora come prima ma stavolta cambiamo RB invece di valere 300 kg lo facciamo valere 150 kg va bene allora vado veloce perché tanto dobbiamo solo cambiare i calcoli no tutto il resto è uguale facciamo l'ipotesi di zona attiva diretta allora calcolo IB torno un secondo indietro e faccio il conto IB come prima ho cambiato soltanto RB l'ho presa alla metà di prima vuol dire che IB mi verrà il doppio di prima ok quindi invece 31 microampere mi verrà 62 microampere quindi torno qua mi viene IB uguale a 62 microampere a quel punto IC lo posso calcolare e beta F per IB mi viene 6.2 milliamper d'accordo adesso facciamo la verifica le correnti sono tutte e due positive si va bene questa è a posto adesso calcoliamo VCE allora VCE era VCC meno RC per IC quindi qui viene 10 volt meno RC era 2 kilom per 6.2 milliamper fa 12.4 volt quindi viene meno 2.4 volt ok non va bene VCE doveva essere maggiore di VCE SAT invece è diventato addirittura negativo cosa è successo non va bene ipotesi sbagliata vedete questa non è una cosa che si può sapere a priori bisogna fare il conto abbiamo cambiato la resistenza RB da un valore a un altro comunque è un valore molto grande rispetto all'altra resistenza non è scontato non era come dire diciamo non era una cosa che si poteva vedere prima facendo i conti abbiamo visto che in un caso la zona attiva diretta è verificata in questo caso non lo è allora come ci comportiamo prima ipotesi non è verificata cambiamo ipotesi chiaramente per come è fatto guardiamo il circuito di nuovo non è che non dobbiamo andare a caso per come è fatto vedete la tensione positiva è qui la VVB è positiva per come scorre la corrente anche la VCE verrà positiva quindi siamo sempre in un tratto vicino delle caratteristiche le correnti verranno tutte positive perché verranno dall'alto verso il basso e quindi l'altra zona di funzionamento realistica è la zona di saturazione diretta in cui sempre la corrente è positiva allora proviamo a vedere il caso di zona di saturazione diretta facciamo l'altra ipotesi saturazione diretta allora a questo punto rifacciamo il conto al posto del transistore dobbiamo mettere il modello per grande segnale in zona di saturazione quindi cosa c'è tra la base e l'emettitore c'è una resistenza VBE scusate una batteria di valore VBE SAT facciamo conto che qui il datasheet mi dica che è 0.8 e tra collettore e emettitore c'è una tensione pari a VCE SAT che facciamo sia 0.2 volt per questo transistore quindi questa è IB questa è C a questo punto facciamo il calcolo IB viene questa corrente quindi la caduta su RB che è VCC meno VBE SAT diviso RB quindi qui devo fare 10 meno 0.8 fa 9.2 diviso RB che è 150 per 10 alla 3 viene all'incirca 62 microamperi lo stesso più o meno come prima non è cambiato quasi niente soltanto questo 0.7 è diventato 0.8 ma poi viene sottratta a 10 quindi il valore non cambia quasi per niente ok adesso i C la calcolo con l'altra maglia vedete i C dipende dalla caduta su RC sarà VCC meno VCE che è la tensione che cade su RC VCSAT diviso RC quindi qui devo fare 10 meno 0.2 diviso 2 K 2000 allora qui fa 9.8 diviso 2000 fa 4.9 milliampere a questo punto possiamo fare la verifica guardando le condizioni allora in zona attiva diretta le due correnti devono essere positive e lo sono le tensioni abbiamo visto con che segno sono quindi l'unica altra verifica da fare è che I B i C sia più piccolo di beta F i B facciamo il conto i C è 4.9 milliampere beta F i B è 100 per 62 microampere che fa 6.2 milliampere quindi anche questa è verificata e quindi le due condizioni sono tutte e due verificate quindi esercizio numero 1 il transistore in zona attiva diretta con valori di correnti e tensioni calcolate caso numero 2 il transistore è invece in zona di saturazione diretta ok ci fermiamo e che ok 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 Grazie.